Abbiamo concluso la prima parte di questa video lezione parlando di un nuovo sistema produttivo introdotto da Henry Ford. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Si tratta dell'organizzazione del lavoro nelle nuove grandi fabbriche. Nel 1911 nasce un sistema di divisione del lavoro chiamato Taylorismo dal nome dell'esperto, dell'economista esperto in organizzazione del lavoro, Friedrich Taylor. Cosa predica questo terrorismo? Il terrorismo divide il lavoro in mansioni semplici, cioè ogni operaio deve saper fare solo una piccola mansione e si deve occupare esclusivamente di quella. Non c'è bisogno che l'operaio conosca dall'inizio alla fine il ciclo di produzioni delle automobili. Un operaio si deve occupare delle portiere, un altro degli pneumatici, un altro dei tettucci, un altro degli interni, un altro dei sedili. Quindi ognuno di questi operai deve saper fare una singola mansione. In questo modo, come vedete in questa immagine qui, il lavoro diventa una catena di montaggio. Cioè è fatta da tanti anelli, in ogni anello c'è un gruppo di operai che sa fare una cosa, quello successivo saprà fare un'altra cosa, fino ad arrivare alla fine del processo produttivo e quindi al prodotto finito. Che cosa consente questa catena di montaggio? Consente una divisione più razionale del lavoro, l'ottimizzazione dei tempi, la riduzione dei tempi e l'abbattimento dei prezzi dei prodotti. Perché se un prodotto viene realizzato in meno tempo, con meno fatica, questo prodotto alla fine costerà di meno. L'aspetto negativo di questo tipo di organizzazione del lavoro è che l'uomo diventa praticamente una macchina. Fa tutti i giorni gli stessi gesti, gesti ripetitivi, gesti alienanti, che lo fanno diventare come un prolungamento delle macchine con le quali lui lavora. L'applicazione pratica di questo terrorismo, la prima applicazione pratica, si ebbe appunto con Henry Ford. Infatti questa teoria prende il nome di Fordismo. Vedete in questa immagine una fotografia scattata all'interno degli stabilimenti Ford in America. Abbiamo finora parlato di quello che alimenta il processo produttivo, il processo industriale. Vediamo adesso, accanto all'aumento della produzione, che cosa determina il maggiore benessere in quest'epoca della seconda rivoluzione industriale. In quest'epoca, sempre collegata alla ricerca scientifica, nasce la medicina moderna. Pensate che grazie a una piccola sostanza colorante, chiamata anilina, gli studiosi riescono a individuare più facilmente al microscopio i batteri, i microbi, responsabili di molte malattie anche epidemiche. Quindi, partendo dal 1796, Edward Jenner scopre il vaccino antivaiolo. Nel 1882, Robert Koch scopre il vaccino antitubercolitico. Nel 1885, Louis Pasteur inventa il vaccino antirabico. Vedete, queste tre malattie, il vaiolo, la tubercolosi e la rabbia, mietevano molte vittime. Il vaiolo colpiva soprattutto gli esseri umani in età neonatale, non facendo arrivare all'età adulta molti bambini. La tubercolosi era una malattia trasmissibile attraverso il respiro, quindi si diffondeva molto velocemente. La rabbia era una malattia legata agli animali selvatici, quindi colpiva molto le persone che lavoravano a contatto con la natura. Si diffondeva dalle animali selvatici agli animali domestici, come i cani e i gatti, e quindi all'uomo. Ed era, e mieteva molte vittime. Quindi già nel 1885, con la diffusione di questi vaccini, si eliminano tre delle cause di morte più importanti in quel periodo. Ma la medicina è collegata anche al sviluppo dell'industria chimica e quindi si sviluppa la farmaceutica. In questo periodo viene scoperta la molecola dell'aspirina, una medicina molto importante sia per piccoli maresseri e sia per malattie cardiache. Viene messo a punto il disinfettante per sterilizzarsi prima di un'operazione. Molte persone, nonostante i medici facessero tutto il possibile, si ammalavano di setticemia, cioè prendevano un'infezione quando venivano operate. Grazie ai nuovi strumenti di sterilizzazione e di disinfezione, questo non avviene più. Bene messo a punto l'etere, vengono messi a punto l'etere e il cloroformio, uno in forma gazzosa e uno in forma liquida, che vengono utilizzati per le anestesie. Adesso le operazioni dentistiche e le operazioni chirurgiche sono meglio sopportate dai pazienti e non sono più causa di morte. Quindi vedete che non è soltanto il progresso tecnologico e scientifico, ma anche il progresso della medicina che va di pari passo allo sviluppo industriale. In questo periodo viene collegato allo sviluppo del processo industriale, del processo di produzione, anche un'innovazione dal punto di vista teorico, dal punto di vista antropologico, è commessa appunto da questo signore, Charles Darwin, che scrive il suo libro nel 1859, L'origine della specie. Cosa vuole dimostrare Darwin nel suo libro? Che le specie viventi sono frutto di evoluzione, cioè attraverso una lotta per la sopravvivenza riescono a sopravvivere solamente le specie più dotate attraverso quella che viene chiamata selezione naturale. Nel suo libro fa l'esempio della giraffa. La giraffa all'inizio non aveva il collo così lungo, poi la natura, la lotta per la sopravvivenza, ha determinato appunto la sopravvivenza degli elementi tra le giraffe che avevano il collo più lungo. Questo ha permesso una selezione naturale, una selezione genetica, per cui sono sopravvissuti poi alla fine tutti quelli con il collo più lungo. Ecco perché adesso la giraffa è un animale dal collo lunghissimo. Fin qui niente di strano, sono teorie molto verosimili, molto plausibili, e il problema è che alcuni pensatori, alcuni filosofi, trasportano il darwinismo che si occupa solamente di zoologia e di antropologia nella società, chiamandolo darwinismo sociale, per giustificare il fatto che ci sia una società diseguale, dove ci sono i ricchi e i potenti che comandano e i più deboli che subiscono. Questi pensatori dicono che questa disuguaglianza è dovuta appunto a una selezione naturale, e non alle ingiustizie dovute alla circolazione dei soldi e del capitale. Alla fine, questo tipo di teoria finisce per giustificare anche il colonialismo e il razzismo, perché attraverso, con lo specchietto del darwinismo, con lo specchietto del libro delle origini della specie di Darwin, si giustificano le teorie della razza, secondo la quale la razza bianca è più evoluta delle altre razze, e quindi è giustificato il colonialismo, è giustificata l'occupazione dei paesi delle razze inferiori, e è giustificato il fatto che le razze inferiori siano al servizio della razza bianca. Quindi vedete che se da un certo punto di vista l'intuizione di Darwin è geniale, dal punto di vista della conoscenza dell'evoluzione delle specie, da un punto di vista filosofico e sociale, queste teorie vengono applicate male per giustificare dei crimini dell'umanità come razzismo. A un certo punto ci si rende conto che per sostenere queste immense industrie, queste immense fabbriche, non è più sufficiente l'investimento di un imprenditore singolo, cioè i soldi di una singola persona, ma lo Stato comincia a intervenire nella produzione attraverso ad esempio alle banche che prestano dei soldi, quindi investono dei capitali nelle idee dei nuovi imprenditori, quindi finanziano la nascita di nuove industrie, poi gli imprenditori restituiranno a un certo tasso di interesse i soldi alle banche. Inoltre lo Stato si impegna a garantire le infrastrutture, ferrovie, comunicazioni, porti, ponti, attraverso le quali i nuovi prodotti di massa vengono diffusi capillarmente in tutto il paese. Lo Stato si occupa anche di migliorare e modificare l'istruzione, potenziando l'istruzione professionale. Perché? Perché gran parte della popolazione fa il mestiere dell'operaio e come abbiamo visto dalle teorie della catena di montaggio, l'operaio diventa sempre più specializzato e quindi nascono delle scuole di avviamento al lavoro, cioè che dopo il ciclo naturale di scuola, le elementari e le medie, avvino direttamente al lavoro pratico, al lavoro in fabbrica. Però questa nuova società industriale, come abbiamo visto prima, è una società diseguale, in cui alcuni grandi industriali si associano tra loro, facendo quello che si chiama trasto, ossia cartello, facendo un'associazione di industriali, per esempio gli industriali dell'auto, gli industriali dei televisori, gli industriali dei telefoni, per lavorare il regime di monopolio, cioè concentrare tutti i ricavi e determinare i prezzi a loro più favorevoli, quindi evitando la libera concorrenza. Spesso lo Stato interviene in queste lezioni, in questi meccanismi, facendo delle leggi chiamate proprio antitrust, cioè che impediscono di formare dei cartelli, di formare delle associazioni tra industriali che determinano l'andamento del mercato. Quindi lo Stato impedisce le grandi concentrazioni di capitale per creare una società più uguale, per garantire la libera concorrenza. Bene, con questo argomento si conclude questo capitolo. Buon lavoro.